Il bambino di tre anni, secondo quanto riferito dalla capomissione Barbara Held, ha una ferita alla spalla lunga 10 centimetri, ma in molti a bordo della nave hanno raccontato di terribili esperienze passate in Libia. I bimbi a bordo sono tre, due sono le donne, di cui una incinta. Stiamo andando, ha spiegato questa mattina la Held, a Lampedusa e spero che troveremo un porto sicuro, non come quelli in Libia, dal momento che i migranti raccolti ci hanno detto che prima di tornare in Libia preferirebbero affogare in mare. Intanto questa mattina Gordon Isler, il portavoce della ONG tedesca, ha aggiunto che la nave non entrerà nelle acque territoriali italiane senza una buona ragione e Lampedusa resta il porto sicuro più vicino. Ma c'è un divieto d'ingresso, transito e sostana le acque italiane per l'Alan Kurdi, divieto firmato ieri dal ministro all'interno Matteo Salvini, un provvedimento che porta le firme anche dei ministri Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli. Fonti del Biminale ricordano che, in base al decreto sicurezza, un provvedimento del genere deve essere controfirmato dai ministri della difesa e delle infrastrutture. Intanto l'Assemblea regionale, nel corso di una cerimonia a Palazzo dei Normanni, ha conferito un encomio solenne al comandante Carlo Giarratano e all'equipaggio del peschereccio Cursio Giarratano di Sciacca, che nei giorni scorsi hanno salvato in mare decine di migranti.